Di aspetto piacevole, con grandi doti di comunicazione dialettica, da buon avvocato qual è, Albert Rivera è l'uomo nuovo di Spagna. È riuscito a inserirsi nella spartizione dell'eredità politica dovuta alla morte del bipartitismo, che fino a poco tempo fa pareva appannaggio solo di Podemos. Sono fiero di essere nato e cresciuto politicamente a Barcellona, in Catalogna, e presentarmi oggi a Madrid per le elezioni generali, dicendo che la Spagna continuerà ad essere un paese unito e che gli spagnoli resteranno uniti. L'ascesa del suo partito, Ciudadanos, è stata impressionante. Dopo il 3% alle europee del 2014, la formazione si impone alle regionali in Catalogna nello scorso settembre, conquistando 25 seggi e diventando un'opzione possibile per chi vuole un cambiamento netto. Nel corso di tutta la campagna elettorale, Rivera e i suoi uomini hanno ribadito che non appoggeranno né Rajoy né Sanchez, perché alla Moncloa sarà lui ad andarci. In molti sostengono che il suo partito sarà decisivo per la formazione del nuovo esecutivo.